L'acqua che sgorga dai nostri rubinetti è di un'alta qualità certificata da un controllo costante misurabile in 58.000 analisi dell'ultimo 2021. Concetti e numeri ribaditi dall'appuntamento annuale del report di Marche Multiservizi in Buone Acque. Si tratta di un rendiconto giunto all'ottava edizione che invita la cittadinanza a riflettere sul consumo idrico andando oltre la fredda lettura delle bollette evidenziando una spesa di un euro e mezzo al giorno per una famiglia pesarese di tre persone. In Buone Acque è dunque un'occasione per far capire come l'acqua dei nostri rubinetti abbia una qualità certificata da 160 analisi al giorno effettuate nell'ultimo anno, un anno in cui Marche Multiservizi ha investito 21 milioni di euro nel settore idrico. Delle volte la sensazione è che ci richiedono tanti dati, tante informazioni ma quelle veramente importanti no, per cui noi abbiamo il dovere di evidenziare e di far capire qual è il lavoro che l'azienda fa per il settore, per l'approvvigionamento e per la gestione. Insomma quindi a partire dalle analisi perché 160 analisi al giorno, la qualità dell'acqua che viene riportata nelle bollette ma che spesso non ci si fa poca attenzione, per cui ecco il grande lavoro che c'è dietro a una gestione corretta e ottimale dell'acqua, anche quegli aspetti che sono un po' più noti perché lo ricordiamo, cioè il livello di investimenti rispetto alla media nazionale, rispetto ad altri territori. È l'occasione per sfatare il fatto che l'acqua del rubinetto non si può bere, direi che le centinaia di migliaia di analisi che facciamo all'anno dimostrano che è un'acqua di buonissima qualità, che rientra nei parametri medi delle acque minerali e che sapete che ci sono dei limiti imposti dalla legge per quanto riguarda i valori, noi siamo al 20%, quindi l'80% sotto questi valori previsti dalla legge, quindi è un'acqua veramente tranquilla e l'auspicio è che gli investimenti e l'impegno che viene dedicato in questa direzione trovi anche poi una sua concreta attuazione, cioè nel senso che investiamo tanto, lavoriamo tanto, però l'acqua del rubinetto è ancora bevuta da troppo a poche persone e continua a bere acqua minerale che costa molto di più e inquina molto di più. Ed è una qualità dell'acqua certificata al pari dei benefici alle tasche dei cittadini. Una famiglia di tre persone che beve acqua dal rubinetto risparmia infatti circa 480 euro l'anno. Ad oggi è salito al 31% il numero dei clienti di Marche Multiservizi che beve acqua dal rubinetto, una cifra che ha evitato l'immissione di 17 milioni di bottiglie di plastica. Con 2,9 euro noi portiamo nelle case delle persone, delle famiglie, mille litri di acqua e poi la depuriamo anche attraverso le fognature depuratori, quindi con 2,9 euro, mille litri di acqua minerale costano circa 250-260 euro. Siamo qua a mettere i puntini sulle IA e ricordare che il costo dell'acqua è un costo mediamente a livello nazionale basso che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista andrebbe aumentato perché l'aumento della bolletta non è un tabù ma è necessario per continuare a lavorare sul miglioramento della rete e quindi di nuovo sulla riduzione delle perdite idriche e anche su un approvvigionamento che ci metta in sicurezza rispetto ai periodi di emergenza come quello di quest'estate, quindi le siccità che non sono più emergenze ma che sono situazioni ordinarie, per cui è necessario avere consapevolezza di questi elementi per poter continuare a gestire in maniera sempre più ottimale questa risorsa importantissima del nostro territorio.